Stiamo seguendo le indicazioni del mister, mi prova nei tre davanti, io a destra e a sinistra. Io cerco di sfruttare a pieno ciò che mi chiede e anche l'opportunità che mi ha dato il direttore Rossino e il presidente Avren. Vorrei sfruttarla al pieno perché sono strafelice di essere qui e speriamo di fare del mio meglio per il Crotone. È partita dalla promozione al mio paese, poi ho vinto promozione eccellenza Serie D e poi sono passato alla Salernitana dove ho fatto tre anni fantastici e che mi ha permesso anche di arrivare sin qui, quindi ringrazio anche la Salernitana. Ho abbinato inizialmente il lavoro al calcio perché il contributo era poco economico e quindi poi c'è stata questa chiamata alla Salernitana che fortunatamente è arrivata dove ci speravo e sono sempre cresciuto con l'idea di arrivare più in alto possibile, come ogni bambino crede. Sono appunto strafelice di questa opportunità, voglio sfruttarla al pieno perché poi mi passano davanti tutto il mio trascorso e niente ecco, vorrei da primo allenatore a quello che mi chiede il mister Davide Nicola voglio mettere a frutto tutto ciò che mi chiedono e fare del bene per il Crotone. Cerco di abbinare la tecnica alla velocità e alla forza, queste sono le mie caratteristiche mi piace molto andare in profondità e appunto speriamo di sfruttarle e di metterle in pratica sul campo. Sì qua mi sono trovato alla grande, una famiglia, un gruppo fantastico dove appunto si vede anche in campo ognuno fa la corsa per l'altro che è in difficoltà e poi si rispecchia anche fuori dal campo perché siamo tutti uniti tra di noi e niente ecco mi sono trovato alla grande e speriamo di continuare così. Forza Crotone, forza Squali e saluto tutti, sono felicissimo di essere qua e speriamo di sfruttarla nel miglior modo possibile.